Non potevamo non parlare della cosa più pirotecnica di sto affare La lingua Un'arma impropria di distruzione di massa Che guarda proprio non me la faccio parlare signora mia Cristo santo ma L'ho sbrindellato sto qua con la lingua Ma è una botta di lingua mostruosa La lingua del camaleonte non conosce pietà Non fa prigionieri Nooo Perché a lui non gliene frega una cioola Lui si fotte pure le prede degli altri Camaleonte bullo valedetto E non parlare della lunghezza Che generalmente raggiunge due volte la lunghezza del loro intero corpo Rendendoli di fatto in proporzione i vertebrati con la lingua più lunga al mondo La lingua dei camaleonti è costituita da una complessa combinazione di ossa Elementi elastici e muscoli Senza contare ovviamente quella saliva super viscosa schifosa che si ritrovano Una roba più densa del miele Circa 400 volte più appiccicosa della nostra saliva Quella saliva serve ad acciuffare le prede Che già non è una cosa normale Ma a questo si somma il fatto che nel mentre si ripiega Quasi a formare una manina E secondo alcuni potrebbe applicare anche una sorta di aspirazione Per la migliorazione Questa cosa scoperta la migliorazione Sì